Ciao a tutti nuovo video su Red, a proposito vi siete iscritti al canale dai che stiamo correndo forte vogliamo arrivare ai 100.000, non mi vedete qui con nessun unboxing da fare perché l'argomento sono gomme e quindi non si possono diciamo tirar fuori dalla scatola e anche perché non li ho qui fisicamente. Il motivo è uno, questo prodotto mi ha incuriosito in modo particolare, parliamo delle Metzler Rotec 02, la nuova generazione dei pneumatici sport touring, anzi Metzler definisce super sport touring, questa gomma mi ha incuriosito perché davvero ha delle peculiarità molto molto particolari, ad esempio il disegno dell'anteriore identico al disegno del posteriore, cosa abbastanza inusuale sulle moto ma anche quello che loro definiscono il battistrada intelligente o adattivo se vogliamo. Cosa vuole dire? Gli incavi studiati su questa gomma rimangono aperti quando la gomma è sottoposta a poca pressione quindi quando si sta guidando sul bagnato restano aperti per denare bene l'acqua ma si chiudono assicurando maggior grip quando la gomma invece va sotto stress o quindi sotto pressione dovuta ad un'accelerazione, una frenata per mantenere più in pronta terra. Quindi questa peculiarità può essere solo una trovata di marketing oppure no e per saperne di più io ho deciso che ho fatto una telefonata ai tecnici della sperimentazione moto che sono giù a Giarre, la proverò presto perché vado all'isola di Man a fare un test approfondito ma volevo prima approfondire l'argomento insieme a loro perché è qualcosa che sembra davvero nuovo. Parti da qui, dal nostro studio, il nostro nuovo On Visit. Questa è la zona industriale di Giarre e qui ci sono due anonimi capannoni in realtà dentro c'è un tesoro. Questa è la sperimentazione moto di Metzler e Pirelli. Vi faccio vedere cosa c'è. Qualcuno di voi sicuramente si chiederà perché è stato necessario arrivare proprio qui a Giarre per creare il centro di sperimentazione moto probabilmente più evoluto al mondo. La storia in realtà racconta che Pirelli produceva in passato pneumatici moto in Sicilia, nello stabilimento di Villa Franca Tirrena in provincia di Messina. Produzione poi spostata nel 1986 a Broinberg in Germania. Ma il centro sperimentazione però è rimasto qui, in Sicilia. Tanti i motivi. Il clima prima di tutto, il meteo qui è clemente per 300 giorni l'anno e poi la varietà. In pochi chilometri si passa dal livello del mare ai 3000 metri dell'Etna. Si possono trovare temperature estreme in estate ma anche andare sotto zero salendo in quota in inverno. E poi gli asfalti, da quello lavico super rugoso e con un casino di grip delle strade e le appendici dell'Etna a quello super liscio effetto vetro del sud nella zona del Siracusano e del Ragusano. Poi due circuiti a portata di mano, quello della Valle dei Templi di Racalmuto stretto e tortuoso, quello iperveloce di Pergusa in cui fare test di resistenza alle alte velocità anche a moto piegata. Insomma il proving ground naturale migliore che si possa trovare. Qui a Giarre il centro sperimentazione moto a cui di recente si è aggiunto anche il velo in cui vengono sviluppati i prodotti destinati alle biciclette da lavoro a circa 40 persone. Ci sono oltre 100 moto di ogni tipo a disposizione. I tester Pirelli in un anno percorrono oltre mezzo milione di chilometri facendo test di durata, frenata, bagnato e analizzando ovviamente la concorrenza. Tutto questo per arrivare alla gomma perfetta. Perfetta sì, fino a quando non arriverà alla prossima. Moto di ogni tipo, ruote di ogni tipo, bauletti e un sacco di ricambi perché qui bisogna essere anche un po' meccanici. Insomma questo è il garage che tutti vorrebbero avere. Eccoci qua, negli uffici, uno dei tanti uffici diciamo mobili del gruppo Pirelli Metzler. Grazie intanto Salvo per avermi accolto qui nel mio viaggio in Sicilia. Touch and go, una giornata, prova. Sei slato rapidissimo, un pulmine. Allora io sono voluto venire perché con questo è un visit noi andiamo a parlare con voi che siete dentro nei progetti, dentro nei prodotti, molto più di quello che possiamo essere noi. Sono stato molto incuriosito perché quando avete comunicato per la prima volta la Rotec 02 sono stati usati termini nuovi. La gomma super sport touring e soprattutto il battistrada adattivo che faccio l'avvocato del diavolo, quello che c'è di là, la solita sparata, no? Perché no, in realtà allora lo spiego io un po' semplicemente poi lo chiedo anche a te. Certo. In realtà la gomma se diciamo soggetta a poca pressione quindi sul bagnato agli intagli molto aperti quindi va qua l'acqua, la spiego in modo semplice. Se invece va sotto pressione quindi sotto carichi elevati come possono esserci sui curvoni autostradali o come quando si guida in modo sportivo gli intagli si chiudono, vanno a aumentare l'impronta terra e quindi aumenta il grip. Sì. Ho detto bene? Sì, 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 assolutamente. Diciamo che per sommi capi è proprio questo il concetto. Poi è chiaro che ci sono tutte delle raffinatezze dentro questo concetto che tu da ingegnere conosci anche meglio di me, però è questo. Il che vuol dire, vabbè, diciamo che tutte le gomme intagliate ovviamente quando vanno sotto pressione muovono gli incendi. Però quello che mi dicevi è che è stato studiato l'intaglio opposta perché sfrutti questa caratteristica anziché la subisca. Siamo la così. È stata è stata proprio calibrata la capacità degli incendi a far da cerniera e quindi poter dare sempre il miglior supporto, la miglior superficie millimetri metro quadro sull'asfalto che possono servire, no? Ho voluto qua quelle precedenti, cioè le attuali, diciamo, le 01. Come potete vedere la differenza è molto importante a livello di disegno, quindi avete fatto tanto sviluppo perché solitamente si cerca di andare avanti mantenendo un po' una continuità. Sì, qui c'è proprio una rottura. Sì, sì, a livello di disegno vedi è completamente differente. Se vogliamo il Rotech 02 ha degli elementi che possono riportarci ad altri disegni del marchio, no? Quindi il pi greco che si intravede, insomma c'è sicuramente un family feeling che comunque ti parla di mezzale. Però hai ragione, la rottura rispetto al Rotech 01 è evidente. A me? Allora io l'avevo provato, ero venuto in Sicilia, ho provato 01, l'avevo provato anche in pista, è una gomma che mi è piaciuta tantissimo. Adesso poi sono curioso di provare questa, ma un'altra cosa mi ha stupito, mi avete sempre detto tutti voi gommisti che l'anteriore deve essere diverso dal posteriore perché comunque deve rompere il velo d'acqua, l'altro invece si passa sopra, insomma sono due funzionamenti differenti, ovviamente l'anteriore è direzionale, il posteriore ha trazione, eccetera, eccetera. Altra innovazione, anteriore e posteriore qua. Stesso disegno. Hanno un disegno che è praticamente uguale. Allora hai detto bene, l'R01 SE per noi è stato un riferimento, un benchmark veramente molto importante, ma anche molto difficile perché Rotech 01 SE effettivamente è un problematico che ha dato delle grandissime soddisfazioni al marchio Mezzel, prestazionalità veramente molto elevata, capacità di performance sul bagnato veramente molto elevata. Fare di meglio era molto difficile e per fare di meglio abbiamo dovuto studiare tanto e intercettare anche quelli che sono i bisogni e saranno i bisogni nel rapido divenire delle esigenze del motociclista. Dovevamo fare qualcosa di nuovo. È chiaro che ci è venuto in aiuto e supporto l'enorme sviluppo che noi facciamo come gruppo nel campo dei materiali, che facciamo come sviluppo nel campo della indagine, se vogliamo, delle varie combinazioni profilo, mescole, disegno che riusciamo a studiare. Abbiamo capito dove sta andando il segmento sport touring. C'è una richiesta di sportività dai proprietari delle naked e anche ultrasportive, ma anche delle super sportive che in certi paesi del nord Europa, non solo del nord Europa, si cominciano a vedere anche da noi. E anche perché le gomme costano un po' e la gente si fa un po' più di chilometri. E il motociclista oggi comincia a voler ritornare a godersi la moto in spazi temporali nel corso dell'anno anche un po' più ampi. Quindi serviva una copertura che andasse molto bene sull'asciutto, che potesse fare i chilometri, ma che potesse anche funzionare bene sul bagnato garantendo comunque livelli di performance molto elevati. Questa è una copertura che va dalla 1250 RT. Ma infatti stai dicendo sportività, però abbiamo qui un RT. Certo. Le sport touring fanno questo ormai. Sì. Devono fare dalla maxi enduro perché c'è anche il 19 ovviamente. Assolutamente, sì. A la grande turistica dove magari c'è la gomma diciamo rinforzata al posteriore perché devi mettere... Sì, ma vedi, il discorso è stato questo. Noi ti abbiamo voluto proporre oggi per questa prima presa di contatto la R1250 RT perché una... Ah, quindi me la fanno poco, me la fanno poco però, eh. Perché? Perché una moto... Io sono venuto col borsone perché volevo forzare un po' la mano, però adesso mi stai confermando che forse... Guarda, vedrai, c'è stato uno dei nostri collaudatori che dice che con queste gomme diventa un aeroplano, va veramente molto bene perché intercetta quell'anima sportiva che esiste in ogni motocicletta, che chiaramente in qualcuna è la caratteristica principale e in altre diverse. Quindi un concetto nuovo, un concetto di sport touring che diventa super sport touring, che riesce a tirare fuori l'anima sportiva di ogni moto mantenendo quelle prerogative da copertura sport touring che devono comunque essere. Voi la proponete da, diciamo, la Maxi Naked sportiva, Crossoverona S1000XR, diciamo, Suzuki GSX, S1000GX, quelle queste qua. Assolutamente. E fino ad arrivare alla... Alla RT. Quindi diciamo, ha allargato un po' rispetto allo 01 che non che non ci stesse, perché io mi ricordo che lo 01 non è venuto in Sicilia apposta a provarlo, l'avevo messo addirittura su una tuono per fare una forzatura e mi era piaciuto, ovviamente poi con i suoi limiti da gomma stradale, tra virgolette, però avete un pochino ulteriormente allargato l'area di influenza. Però ti faccio una cosa, una domanda cattiva. L'M9? Allora, perché qui siamo... E' una bella sfida, è una bella sfida. No, beh, è chiaro, l'M9 rimane su al livello di performance, è chiaro. La prerogativa del Rotec 02 è quella di offrirti un'anima... Ecco, è un po' bifronte, no? Allora, abbiamo coniato dei termini per descrivere il modo di utilizzare l'R02 che passa da quel tipo di guida molto rilassata, molto sciolta... Quella che i ragazzi, come il mio figlio, chiamano la guida chill, cioè proprio... Ma noi la chiamiamo qua. Non ci sto pensando. Noi la chiamiamo, cioè non vorrei veramente creare nessun tipo di frainteso, noi facciamo una distinzione tra guida passiva, quella dove tu lasci andare la moto e della moto che ti conduce... Mi faccio portare in giro, diciamo. Mi faccio portare in giro, e la guida attiva dove invece viene fuori il tuo animo sportivo, dove carichi gli angoli, magari con trasferimenti di carico... Sì, forzi da frenata... Sforzi il triangolo ergonomico, cerchi di andare più forte possibile attivando certe reazioni della moto e del pneumatico che devono essere in assoluta sinergia. Ecco, questo pneumatico ti dà lo stesso family feeling, ti dà la stessa risposta, la stessa sicurezza di percepire quello che stai facendo, sia in guida passiva che in guida attiva. Questo è il concetto di super sport touring. Bilanciamento, una parola bilanciamento. E poi notavo, perché siccome ovviamente sono venuto preparato, perché altrimenti qua il cospetto di salvo si fa brutta figurare, mescole, sono tutte e due binescola, e tra l'altro se non sbaglio ho letto binescola, cioè la mescola è la stessa, più o meno, dell'anteriore e posteriore. Allora, abbiamo la stessa percentuale di silice, e questo ci consente, noi oggi siamo veramente padroni della tecnologia dell'utilizzo della silice, quindi riusciamo a calibrare veramente in funzione di quelle che sono le destinazioni di impiego, le miscele giuste. La silice, per chi, ovviamente noi diamo per scontato che tutti sappiano, ma la silice è un componente fondamentale per la guida sul bagnato, è quella che ti attiva la mescola sul bagnato, è quella che ti attiva la mescola sul bagnato, è quella che ti fa mantenere il grip sul bagnato così, mentre il nerofumo è quello che ti dà la spinta, è quello che viene usato per le gomme da corsa, quindi sulle gomme stradali la silice è un elemento fondamentale. Cioè, bisogna bilanciarla, perché quando le metti troppa, poi dopo dire la gomma non... C'è da dire... Ha anche delle controindicazioni. Assolutamente, anche se c'è da dire che negli ultimi anni l'evoluzione che c'è stata nel campo dei materiali ci consente di avere delle silici con caratteristiche tali che annullano quelli che potrebbero essere i punti deboli della silice, sai, il caldo, l'asciutto, l'uso sportivo e il bagnato. Esatto, perché adesso visto che mi sopporto la biglia mia, visto che magari faremo qualche giro e uno dei limiti che molti rilevano anche nelle gomme da turismo, sì, io sono uno che guida sportivo, la gomma la scaldo e quando fa tanto caldo poi la gomma turistica, diciamo, va un po' in crisi, no? Sì, è così e in tutte le attività di preparazione al nuovo Rotteg 02 tu puoi immaginare abbiamo fatto dei test comparativi molto molto approfonditi con la concorrenza, con ciò che offrono i migliori prodotti della concorrenza e soprattutto quelli che storicamente utilizzano la silice in maniera molto competente. Ecco, il grosso vantaggio che noi abbiamo rispetto ai vari benchmark del segmento è proprio la insensibilità agli estremi di temperature, mentre ci sono dei pneumatici sport touring che sono ottimi, assolutamente buoni, che vanno benissimo sul bagnato, che assolvono il loro compito molto bene, ma che poi quando cominci a caricarli diventano pesanti da guidare, non ti danno più quel feeling di immediata esecuzione della manovra che ti possono dare altri, no? Perché magari c'è una silice che è stata deputata a dare tanto 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 bagnato, ma poi cede in quest'uso intenso. Il pneumatico ottimo, è una scelta costruttiva. Noi siamo riusciti a fare uno step in avanti mantenendo queste elevatissime risposte sul bagnato, ma dando un contributo forte in questa che definiamo guida. Tra l'altro dicevi a livello di sostegno, io sento poi questo test qua e tu non ridirai, no? Che è il test della carcassa sgonfi, non serve a niente. Però le sento abbastanza sostenute, perché comunque devono reggere carichi importanti. Se poi vuoi essere anche sportivo, quando freni, freni forte, soprattutto l'anteriore deve avere sostegno. È un po' una... non dico un cambio di filosofia che voi avete avuto, però negli ultimi prodotti del vostro gruppo noto che si va un po' in quella direzione lì. Di avere più sostegno... Allora, dipende molto da quella che è l'evoluzione, che è l'emoto... Eh, bisogna dargli dietro, sì certo. Considera che negli ultimi anni i sistemi di cornering ABS l'hanno fatta da padrone nel determinare l'approccio filosofico, la progettazione pneumatico, i controlli di trazione. Cioè, tu le carichi di più, perché freni più forte... Eh sì, le carichi di più, ma non solo, ma questi sistemi consentono anche di spingersi verso delle geometrie di veicolo, che prima magari non erano proprio le stesse di quelle che tu puoi permetterti oggi. Tutto questo ha imposto il dover stare al passo dei tempi, con i tempi, no? E quindi certamente abbiamo fatto degli interventi strutturali, di materiali bianche, no? Che devono sposarsi... Chiaro che tutto lavora insieme, mescola in carcassa, in tagli, il disegno, tutto insieme. E dicevamo, bimescola... Tu, il rapporto... Sì, allora il bimescola... Prendiamo il rear come esempio di bimescola. Allora sul rear... Lo facciamo vedere bene, eccolo qua. Beh, allora... 180... Tanto poi misure ce l'avete tutte, no? Sì, 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 180, 180, 160, andiamo anche sulle bighe enduro, quindi insomma, certamente avranno poi delle scadenze, delle cadenze di presentazione al mercato, ma insomma le abbiamo tutte. Concetto bimescola, qui se vogliamo proprio... Veramente molto, non voglio dire enfatizzato, ma quasi. Quindi una capacità della mescola, non solo di offrirti un livello diverso di aderenza, sia sul bagnato che sull'asciutto, in funzione delle parti di applicazione, ma anche una mescola che diventa un elemento determinante in questo concetto di adattamento del disegno battistrada ai carichi imposti. Quindi la mescola ha un certo tipo di durezza che da progetto bilancia in maniera veramente ben studiata, diciamo, questo è un plauso ai nostri colleghi di R&D, bilancia in maniera molto efficace, la capacità di far cerniera degli incavi, e quindi in questo modo si ha un effetto combinato, cerniera, morbidità, ecco per farlo capire, morbidità della mescola che poi ti garantisce anche quell'adesività meccanica, non solo chimica che serve. Senza avere discontinuità, perché è uno delle problematiche di bimescola, lo sai che... No, quello ormai è stato superato da un tempo. Tutti i costruttori diplomatici, allora io dico sempre che ci sono i top 5, no? Top 5 sono il nostro gruppo, poi insomma Michelin, Bridgestone, Dunlop, Continental, insomma quello è un problema dimenticato, ecco. Ok, perfetto. No, mi sembra che sia... insomma, intanto, poi dopo con Salvo ci rivedremo a... In un posto favoloso. All'isola di Man, e quindi loro non volevano farmi fare un giretto, perché ovviamente la prova l'abbiamo fatta là, ma io sono venuto qua un po' strappalacrime, li ho convinti a farmi fare un girettino con l'RT, e giusto per capire, perché sono veramente curioso, insomma, quando una gomma cambia così tanto è perché proprio c'è dell'innovazione dentro, cioè è proprio il cambio generazionale. Poi Stefano, davvero, sono molto contento che tu, ecco, ci siamo fatti convincere da te a guidarla oggi, perché è un cambio proprio di filosofia, nel panorama degli sport touring noi stiamo creando, non voglio dire che stiamo creando un livello, però stiamo facendo una proposta nuova, a nostro avviso indovinata, ci dirai tu, ci direte voi. Sì, sì, perché adesso diciamo che la caratterizzazione degli pneumatici è diventata sempre più liquida, se vogliamo, fluida. C'erano una volta, c'era la gomma sport da pista, la gomma sportiva e la gomma turismo, fine. La gomma turismo facciamo un sacco di strada. E con una non facevi quello che fa l'altra. Poi siete un po' arrivati voi, avete fatto la super sport che era a metà tra la pista e la strada, adesso questo è la sport da super sport touring che è a metà tra il tour, la sport touring, perché poi le turistiche non esistono più, perché anche con il GS, ma anche con l'RT, guidi che c'è un'altra roba. E soprattutto secondo me io sono impressionato dai progressi fatti sul bagnato. Se io penso a una gomma di sei anni fa, senza andare troppo indietro, nel cambio bagnato asciutto così eri sempre un po'... Sì, è vero. Ma guarda, ti dico, noi nel corso dei nostri lavori di messa a punto del Rotte 02, come puoi immaginare, abbiamo fatto tantissime attività sul bagnato, ma veramente tanta, ma non ci siamo fermati ai nostri pruing ground, ai nostri laboratori a cielo aperto. Ti dico, negli inverni appena trascorsi, guardavamo dalla finestra e se c'era una bella giornata di pioggia, come dei deficienti, tu tanti pioggia e pioggia. Questi che amano le giornate di pioggia. No, ma davvero, perché poi alla fine è il mondo reale che ti dà il riscontro, dove devi anche improvvisare se vuoi, sempre nei limiti della massima sicurezza, ma devi farlo. E la predittività, la controllabilità che siamo riusciti a ottenere con Rotte 02, veramente ci ha soddisfatti tantissimo e anzi ne approfitto, se me lo consenti, di fare veramente un applauso ai nostri ragazzi di Arendia, ai nostri ragazzi di materiali che hanno fatto un lavoro pazzesco, hanno interpretato al meglio l'indirizzo che il nostro marketing ha intercettato. Siamo molto contenti. Bene, allora io direi che la chiudo qui, se no sto con lui, possiamo parlare per sei ore di fila, però vado a farmi un giretto, poi vi dico anche cosa rilevo e poi io con Salvo ci vediamo alla prova dell'Isola di Mann, dove trarremo le conclusioni, dove approvandola con tante moto, verrà fuori veramente l'anima di questa roba. Speriamo che piova. Speriamo che piova e ricordati che si guida all'altro lato. Questo sì, speriamo che piova, perché comunque poi la prova, secondo me la turismo provata sul bagnato ci sta, il turismo ormai è quasi offensivo. Io vado a cambiarmi e ci vediamo dopo in pista. Alla fine un po' li ho convinti e insomma anche perché mi ero portato all'abbigliamento, quindi non si sa mai, sempre essere pronti a tutto e sono riuscito a strappare un mini test della Z02 in pista per Gusa con un RT, quindi diciamo un po' fuori contesto, ma forse riesco a fare anche due curvette. Più che altro il test principale sarà ovviamente all'isola di Mann, dove proverò la gomma su varie moto, tra l'altro anche alcune molto sportiveggianti, per cui questo fa capire come Metzler intende posizionare questa gomma, però il test qui sarà breve, ma più che altro per capire se quello che mi ha spiegato Salvo poi lo ritrovo effettivamente nella gomma che proverò adesso sull'RT. Passiamoci un giro. Ciao! 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 Allora, sono riuscito a rubare qualche chilometro di test con le Rottex 02, qualche chilometro su strada e poi 5-6 giri di pista con la RT. Ovviamente siamo fuori contesto, ma forzando la mano si vengono fuori alcune cose, che probabilmente anche nella prova dell'isola di Mann, che sarà la prova definitiva, dove proverò queste gomme su altre moto non potrebbero neanche emergere pezzo su strada, bilanciamento tra anteriore e posteriore davvero pazzesco e soprattutto la stabilità dell'anteriore è molto evidente c'è una sicurezza di guida che secondo me anche rispetto al pur eccellente 01 è ancora ulteriormente migliorata mi ha particolarmente colpito l'assenza totale di lift up quindi con una moto molto pesante che ovviamente ha un po' questa tendenza entrare con i freni in mano non succede praticamente nulla e la cosa positiva è la velocità di esecuzione è un anteriore davvero svelto che velocizza, rende sportiva anche la R1250RT che è una moto sportiva, non è anche se è una moto molto dinamica cosa che ho percepito ovviamente è un sostegno da parte della carcassa abbastanza importante anche le gomme sport touring come queste si stanno spostando verso un po' la sportività non a caso la chiamano super sport touring perché questa cosa mi trovo abbastanza d'accordo la verificherò provando appunto queste gomme su moto più sportive ma quello che si percepisce è che il sostegno della carcassa dell'anteriore il sostegno della carcassa del posteriore sono elevati come su una moto sportiva entrando in pista ovviamente si esagera tutto il comportamento la cosa che mi ha impressionato di più è che ho fatto 5 giri per gusa dove la parte destra della gomma si scalda tantissimo perché sono curvoni in appoggio a 180-190 all'ora con la spalla che lavora tantissimo la gomma non cede quindi non va in diciamo sovra temperatura abbiamo preso anche una temperatura tipo 70 gradi alla fine della sessione del posteriore quindi si scalda parecchio ma non si è surriscaldata e quindi questa cosa è buona perché vuol dire moto a pieno carico d'estate in due sull'autostrada e curvoni non avere la gomma che va un po' in pappa ecco diciamo così sostegno incredibile da parte del posteriore curvoni con il gas tutto aperto la moto estremamente stabile mai nessun movimento, mai nessun pompaggio quindi da questo punto di vista qui, considerando che questa moto pesa 280 kg davvero super buono e frenata al punto forte, la moto estremamente stabile l'RT pur una moto con un'ottima ciclistica ma quando vai a forzare una moto così pesante in staccate vere e proprie come si fanno qui prima delle varianti proprio qui si fanno non delle frenate, delle staccate c'è sempre qualche serpeggiamento in questo caso la moto resta assolutamente stabile c'è un tratto qua in fondo dove si può verificare la stabilità con crepe longitudinali da questo punto di vista qui niente veramente da segnalare rilevo appunto una sportività superiore alla media di questo tipo di pneumatico che regala agilità di comportamento sostegno sull'anteriore bilanciamento di spinta tra l'anteriore e posteriore anche quando si fanno i curvoni davvero di altissimo livello da questo punto di vista qua credo che sia nata forse un nuovo segmento vogliamo chiamarlo così Pirelli e Metzler il gruppo Pirelli Metzler non è nuovo a inventarsi segmenti lo ha fatto col Diabolo Rosso Corsa ma qui parlando di Metzler possiamo dire che la gomma Super Sport Tuning effettivamente prima non c'era e forse adesso con la 02 c'è primissime impressioni con una sola moto approfondiremo l'argomento sicuramente nel prossimo video che sarà tra qualche settimana dall'isola di Man dove potremo provare queste gomme non solo su moto super turistiche come l'RT ma anche su moto ben più sportive o naked di grande potenza giusto per capire fin dove si può arrivare con delle gomme che adesso possono fare davvero quasi tutto a 360 gradi io se avete delle domande qua sotto magari se riesco vi rispondo qui se no vi rispondo nel prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video